Montecrotto Noi alluvionati del febbraio 2014 attendiamo ancora le indennità per i danni subiti dall'alluvione Dobbiamo agire fin da subito per recuperare i danni come hanno fatto gli altri comuni Ho molto a cuore il problema delle barriere architettoniche Bisogna intervenire subito per ridare mobilità alle persone disabili e ai nostri turisti Per dar forza alle mie idee il 5 giugno vai a votare Vota Nuova Montecrotto, vota Turlonova